Siamo da Italy Milano Smeraldo per la presentazione della nuova linea di grandi lievitati e di confezioni in regalo di Natale. Eccoci, oggi presentiamo un momento importante per Italy, per i nostri clienti, il momento del Natale dove come tutti gli anni ci sarà il meglio dell'enogastronomia italiana con tutte le eccellenze, i grandi classici ma tante novità. E per la prima volta per la storia di Italy presenteremo la nuova gamma di panettoni marchiati Italy, avremo quattro varietà, il classico panettone basso milanese, avremo un panettone glassato, arancia e cioccolata, una base pandorata senza canditi, senza ovetta con una crema di pistacchio tostata e il classico pandoro. Qual è la differenza di questi panettoni? La grande ricerca della materia prima, quindi abbiamo lavorato per diversi mesi a cercare gli ingredienti giusti, sicuramente l'umidità dei prodotti, quindi un prodotto molto fresco, dall'altra parte il profumo e la ricchezza. Se prendiamo il panettone classico, grande ricchezza di uvetta e grande ricchezza di arancia candita italiana. Quest'anno presentiamo una rinnovata selezione di cesti natalizi, quindi sono nove cesti natalizi in una confezione che ha una nobilitazione rispetto al passato, quindi una confezione molto premium, con un bellissimo effetto soft touch. Sono scatole fatte in Italia, c'è una lamina in oro sulla parte superiore su cui appunto viene fuori bene la scritta Italy e ovviamente oltre al contenitore che è veramente bellissimo quest'anno, abbiamo lavorato tantissimo sul contenuto, quindi sono nove scatole che hanno un ventaglio di prezzi molto diversi. Ovviamente cambiano gli ingredienti all'interno di queste scatole, ci sono cesti completamente dolci, cesti invece dove c'è un assortimento dolce salato, cesti dove c'è diciamo così un racconto della biodiversità italiana dove si raccontano alcuni prodotti del sud Italia, alcuni prodotti invece che sono più tipici sulle tavole in maniera trasversale di tutta l'Italia, quindi ce n'è per tutti i gusti.